Romantica sempre del maestro secondo Casadei in cinque parti, ultima fatica di serata, una polca, mettetecela davvero tutta, noto con piacere il maestro Eros Giacomoni, il maestro Paolo Pasini e il maestro Francesco Tordi assieme al dottor Roberto Zanotti che stanno seguendo l'evolversi della manifestazione alla nostra giuria. Le coppie sono pronte, mi dice il maestro Robertino se siete come gli arbitri della Juventus, mi auguro di no, 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 questo è molto importante, questo è molto importante, va bene, allora musica! Grazie a tutti! Ma come sono brave le coppie, dai facciamoglielo un applauso, caloroso! Ultima parte! Bravi bravi davvero! Venite tutti qua che vogliamo fare una bella ripresa con R1 TV Romagna e il pubblico con piacere vi vuole dedicare un calorosissimo applauso. Mettetevi pure avanti, fatevi vedere dalle telecamere di R1 TV.